È una malattia spesso trascurata dal sistema sanitario nelle diagnosi, eppure è una malattia a tutti gli effetti. In Italia ne soffre il 23% delle donne dopo i 40 anni e il 14% degli uomini sopra i 60. È l'osteoporosi, quella patologia che sottopone lo scheletro ad un maggiore rischio di fratture. La mortalità in fase acuta è del 5% e sale al 15-25% nei 12 mesi seguenti. Il 20% dei pazienti perde completamente la capacità di camminare. Uno dei punti di riferimento per la chirurgia vertebrale in Italia è l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, dove in questi giorni si tiene il Meeting Internazionale Tumors and Osteoporosis. Una due giorni scientifica di approfondimento della patologia tumorale e di quella osteoporotica in ambito spinale. Due condizioni complesse da affrontare dal punto di vista chirurgico, a maggior ragione quando si manifestano in combinazione. Il messaggio più importante è che il chirurgo deve lavorare assieme all'oncologo, all'oncologo medico e al radioterapista, perché se ci si siede e si parla del caso tutti insieme, si può riuscire a combinare una serie di trattamenti che per il paziente riducono magari gli effetti collaterali e migliorano il risultato finale. Al Meeting partecipano esperti di fama mondiale per discutere degli sviluppi delle tecniche diagnostiche e di quelle chirurgiche che hanno migliorato sensibilmente l'approccio a queste patologie. Si tratta del primo incontro congiunto dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e del National Center for Spinal Disorders di Budapest. I due centri collaborano da tempo e rappresentano nei rispettivi paesi il top dell'eccellenza per la chirurgia vertebrale. Il paziente deve essere al centro delle nostre scelte. In base alle caratteristiche e ai problemi del paziente dobbiamo scegliere qual è il trattamento più ideale. Non considerare il caso ma considerare il paziente. Non decidere solo sulla lastra, sulla risonanza magnetica, sull'elettromiografia. Dobbiamo avere il nostro paziente, considerarlo sul piano umano. C'è uno psicologo che ci ha insegnato delle cose molto interessanti, che ci ha fatto capire come possiamo comunicare meglio. Dobbiamo scambiare le informazioni fra diversi specialisti per ottenere il massimo per il paziente.